Ciao a tutti! Oggi vediamo alcuni trucchi sulle moltiplicazioni. Per prima cosa andremo a vedere alcuni trucchi su moltiplicazioni tra l'11 e il 20. Ad esempio facciamo 15 per 13. Primo trucchetto. Aggiungiamo al primo numero l'ultima cifra, quindi 15 più 3 uguale 18. Moltiplichiamo per 10 e otteniamo 180. La seconda parte moltiplichiamo normalmente 5 per 3, 15. 180 più 15, 195. Ok? Proviamo con 16 per 14. Allora, stesso procedimento. Facciamo 16 più 4. Ok, 200 perché facciamo 20 e aggiungiamo 1, 0 perché rimoltiplichiamo per 10. Poi 6 per 4, 24. 200 più 24 uguale 224. Provare per credere con la calcolatrice. Adesso invece vediamo il quadrato di numeri che finiscono per 5. Ad esempio 35 per 35, quanto fa? La prima operazione che facciamo è 5 per 5, 25. E lo scriviamo qui. Poi facciamo 3 per 3 più 1, quindi è 3 per 4. e lo mettiamo sopra 12, quindi 35 per 35, 1225. Facciamo anche 45 per 45. Quindi abbiamo capito che dobbiamo fare 5 per 5 subito e lo scriviamo alla fine. Poi facciamo 4 per 4 più 1, quindi 4 per 5, 20. E lo scriviamo sopra. Quindi 45 per 45 è uguale a 2025. Ultimo trucchetto, vedete, purtroppo sotto si sporcano i fogli. Facciamo 54 per 56. Praticamente questa moltiplicazione è entro il 100 e la somma degli ultimi due numeri deve fare sempre 6, se no il trucchetto non funziona. Allora, come procediamo? Facciamo 5 per 5 più 1, quindi 5 per 6 uguale a 30. Poi moltiplichiamo le ultime due cifre. 4 per 6 uguale a 24. Quindi mettiamo 30 e 24. 54 per 56 uguale a 3024. Provare per credere con la calcolatrice. Ultimo esercizio. Facciamo 43 per 47. Adesso cerchiamo di farlo in diretta. Allora, abbiamo visto che dobbiamo mettere come ultimo risultato la moltiplicazione delle ultime due cifre, quindi 21. Poi proviamo a farlo a mente. 4 per 4 più 1. Quindi 4 per 5, 20. Uguale? 20, 21. Quindi 43 per 47 fa l'anno 2021. Carino, vero? Mettete like al video se è piaciuto. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale. Non costa nulla. E a un prossimo video tutorial. Ciao a tutti!